Se basta il terzo letto di partenza, andiamo a vedere che Bagar per la prima posizione chi la spunta, abbiamo la casacca del leader del trofeo Bombardia momentaneo, però c'è Bagar, mamma mia, mamma mia, sono in tre, con 329 accusato davanti a Adam Sartori del Garlate, sono compagni di squadra, quindi la doppietta del Garlate al momento, ma Mattia accusato è lui che gira ancora davanti sull'ultima linea e va a chiudere in prima. Saliamo subito di categoria con il G2, Gimondi, Fiorello, Marco.